Ci siamo entrati ormai quasi tre anni fa per la prima volta per raccontare quello che si stava vivendo all'interno delle terapie intensive covid. Oggi la terapia intensiva del San Donato di Arezzo è riservata ai casi covid è vuota. L'ultimo dei pazienti è stato trasferito due giorni fa. Ci sono sempre meno ricoverati da covid, spiega la dottoressa Raffaella Pavani, direttore di anestesia e reanimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo. Nel gennaio di quest'anno i pazienti sono stati soltanto 10 contro i 45 dello stesso mese del 2022. Il periodo covid lo ricordo come un'esperienza che ci ha cambiato in termini professionali e umani. Ci sono stati tanti momenti di paura, tanta stanchezza fisica che abbiamo sentito dopo il periodo clou. Non c'è però solo il covid. La terapia intensiva, spiega la dottoressa, riservata appunto a questo tipo di malati, oggi è vuota ma il carico di lavoro non è diminuito. Nel nostro reparto negli ultimi mesi hanno fatto il loro ingresso tanti pazienti con insufficienza respiratoria, un numero più alto rispetto agli anni precedenti come quello delle influenze. Il carico di lavoro dunque se guardiamo i numeri è praticamente raddoppiato rispetto al covid ma con l'equip riusciamo a dare sempre risposte agli utenti. Insomma l'influenza picchia duro, forse tanto quanto il covid. Nell'ultimo mese, dice ancora la dottoressa, il tasso di occupazione in reparto è stato del 103%.